Lavori fermi ormai dallo scorso Natale, la ricostruzione del ponte di Guastacconcio lungo la strada provinciale 97, bonifica di Mozzagrogna, necessari per un territorio tagliato a metà dopo il crollo della precedente infrastruttura, accusano uno stop che ormai va avanti da due mesi. Dopo che la ditta d'amico ha provveduto alla bonifica dell'area e dei piloni rimasti nell'alveo del fiume Sangro, la ditta Tenaglia e l'impresa alla quale è stato affidato il bando pari a 3.350.000 euro, intervento inserito nel piano ponti della provincia di Chiti. Deviato il corso del fiume per consentire la palificazione in profondità, la Trivella ha accusato la rottura di alcune componenti, dunque ricostruzioni stand-by, nonostante le pressanti sollecitazioni del sindaco di Paglieta Graziani, degli altri rappresentanti di un territorio che confida in tempi celeri, nell'assoluta priorità per l'intera comunità, oltre che ovviamente per i lavoratori, le imprese, i cittadini che vivono nella zona interessata. Lo scorso 26 ottobre i lavori sono stati consegnati alla Tenaglia con un progetto moderno, pila centrale e spallette laterali, nuova struttura realizzata in acciaio Corten, larghezza di 12 metri, una carreggiata centrale, due corridoi laterali pedonali, taglio del nastro, 240 giorni lavorativi, questo prevede il contratto. Ed ecco il primo intoppo.